Non si può parlare appunto di creazione di nuovi prodotti o nuova produzione, ma di creare posti di lavoro attraverso un ampio progetto appunto di messa in sicurezza del territorio e di rigenerazione urbana. Se si intende correttamente il concetto di decrescita è la diminuzione della produzione e del consumo di merci che non sono beni, cioè degli sprechi, ma per ridurre gli sprechi occorre lavorare e occorre utilizzare tecnologie più evolute di quelle che sono attualmente in corso e nella situazione attuale in cui tutti quanti pensano che per uscire dalla crisi bisogna rilanciare la crescita, noi invece indichiamo la strada di una decrescita selettiva guidata del prodotto interno lordo come unica strada che consente di creare non solo un'occupazione qualsiasi, ma un'occupazione utile. Grazie a tutti! Grazie a tutti!